questo è Naruto, Naruto mi fai fatto e non rispondete? Mi state evitando? Tecnico della modificazione d'accordo! Naruto posso parlare un secondo? Dimmi? Volevo dire, sei emozionato ad essere qui con tutta questa platea importante? Beh, abbastanza, però? Però ciò? Però? E però? Qual è? E che ne fanno, devi di tu, che te lo dirò io? Però? Eh dimmi però? Ma il vero Naruto chi è? Ah, vabbè, lo dobbiamo dire? Lo diciamo o non lo diciamo? Lo facciamo in sospeso? Signori e signori, sta per arrivare il vero Naruto, lo facciamo entrare? Magrina, ti lascio a te l'anore di presentarlo, tu puoi rimanere qui così gli stringi la mano quando arriva Signori e signori, ecco a voi Leonardo Graziano! È un vero Naruto di qui, grazie! Non lo fate arrabbiare, se no la volpe ha nove cose, tutte le ore cose! Ringraziamo anche chi si è prestato a interpretare Naruto, come gli chiami? Un applauso anche a Lorenza, grazie!